Ciao a tutti, come vedete sono in un brutto sfondo, ma adesso cambierà Scherzo Come tutti sappiamo purtroppo Demon Slayer è stato interrotto Che direte voi? Perché le stesse persone che volevo togliere Squid Game Poi se lo sono ritrovati con i sottotitoli Hanno deciso di Vabbè, è normale Vabbè, non potevate spararvi una sega o qualcosa del genere, no? Dovete... Eh, ma però... Vabbè, sessismo di un personaggio che non esiste Tu non puoi fare sessismo su una cosa che non esiste Tanto, qui, qui o qua ci sarà l'immagine Vabbè... Vabbè che Netflix Netflix consente se sento una cosa così Allora io toglierei 3.675 Non so cosa ho detto, ma scrivo qua il titolo Come vendere... La... Polvere bianca e il borotalco online E su Netflix E su Netflix Capito? YouTube su Netflix Avrei a dire una cosa a tutte le persone che hanno segnato Demon Slayer Bello il segreto, vero? Bello il Sanremo, eh? Quindi... Il video è finito Non arrivo ai 8 minuti Come la maggior parte dei miei video E su Svegliere il autistico E su Grazie.